che chiaramente come ogni anno ci dirà qua ragazzi il fondo è diverso ovviamente rispetto al classico cross country rally che corre in Italia però venderò cara la pelle sì sicuramente la balleria di quelli davanti tantissimo chiedere alla Suzuki che ne facciano uno uguale magari ci ho provato insieme al fido Bruno Fedullo questo giovane l'abbiamo già conosciuto lo scorso anno se ben ricordi da Mazzini io e voi di belle speranze che si è facciato il mondo della motosport a quali strada e direi sicuramente i risultati subito 3 in punto la gara nazionale con la Suzuki New Gran Bitarra della coppia ed ecco lì qua a continuare le danze di queste New Gran Bitarra quando opera lo stilato del calendario 2014 di certo è che si parte con sarà appunto stilata una lista delle siamo qui e viviamo poi in domenica noi se la mettiamo tutta per venticulare questo bel sole questo bel caldo che oggi abbraccia praticamente tutta non solo la città di San Cile ma la zona anche per l'equipaggio numero 303 Massimo Mancusi Sandra Castellani la competizione è bella ma vuoi mettere quando si porta a camera il sesto dei 13 aventi diritto alla partenza della gara nazionale è pronto ad affrontare il palco è un'HDA gran bitara che sta per partire alle 16 e 38 che sta per partire 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 Grazie a tutti 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 Benissimo Grazie a tutti Grazie a tutti